Conosci la promessa che abbiamo e che persino la persona più fedele nel vecchio patto non aveva? Ebrei capitolo 11 versetto 39 a 40 In Ebrei 11 riguarda gli eroi della fede. È molto interessante leggere della loro fedeltà e della fede che hanno avuta, ma sta scritto che tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottenerono ciò che era stato promesso. Quindi qual era la promessa che questi eroi di fede non hanno ricevuto? Questi uomini e queste donne che stavano così fermamente nella loro fede e nel loro ardente amor per Dio, fino alla morte, qual era la promessa di Dio che non hanno ricevuto, ma che noi possiamo ottenere. Perché sta scritto nell'ultimo versetto? Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei capitolo 11 versetto 40 Questo perché quando venne Gesù, un tempo completamente nuovo giunse sulla terra, con nuove possibilità. Lui venne con il Vangelo. E il Vangelo è che possiamo essere trasformati, possiamo essere resi confermi all'immagine del Figlio, secondo Corinzi capitolo 3 versetto 18 e Romani capitolo 8 versetto 29. Possiamo prendere parte ai frutti dello Spirito, che sono le virtù di Gesù Cristo. Ed era questo ad essere impossibile prima di Cristo. Allora, potevano ottenere benedizione terrene attraverso il timore di Dio, e naturalmente ricevettero la vita eterna e il perdono dei peccati. Ma era completamente diverso da quello che possiamo ottenere ora. Prima avevano bisogno di venire a Dio e portare sacrifici di animali per ottenere il perdono per i loro peccati, ma avevano bisogno di tornare volta dopo volta, perché non potevano sfuggire alla loro natura. Questo era impossibile per la legge. Ma quando venne Gesù, allora ciò che era impossibile per la legge, divenne possibile. Romani capitolo 8 versetto 1 a 4. Questo è un messaggio incredibile. Ora posso venire a Gesù e bere l'acqua viva che era nel suo Spirito. E io stesso posso ricevere questo Spirito dentro di me. Può fluire verso la vita eterna, per le persone che mi ascoltano e mi vedono, così che può esserci una fine al peccato. Gli ebrei avevano grandi promesse nel tempo in cui vivevano, ma noi abbiamo ricevuto promesse ancora maggiori nel tempo in cui viviamo. Molte persone non lo vedono in questi giorni, ma Pietro scrisse di questo già duemila anni fa, sulle sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione, che è nel mondo a causa della concupiscenza. Secondo Pietro capitolo 1 versetto 4. È incredibile. E questo avverrà anche in noi. E Dio ha preparato una città nell'eternità, per quegli eroi della fede, così insieme a noi raggiungeranno ciò che non potevano raggiungere nel vecchio patto. Saremo insieme a loro per un'eternità, e realizzeremo ciò che non potevano ricevere allora. Quindi c'è un'enorme gloria che ci attende in Gesù Cristo. E quando Gesù ritorna e inizia una nuova epoca, allora la gloriosa pienezza dello Spirito riempirà tutta la terra e sarà una benedizione per le persone e gli animali. Persino gli animali non si divoreranno più. Un bambino sarà in grado di avvicinarsi a un leone e così via. Uno Spirito dei tempi completamente nuovo verrà sulla terra. Allora il Principe del mondo sarà finito, sarà legato da catene. Lo Spirito di Gesù Cristo verrà avanti, e insieme a Gesù aiuteremo ad asciugare le lacrime e rendere le cose buone per le persone per l'eternità. Questa è la nostra grande speranza, ed è quello per cui viviamo.